Allora Awed, Fariba è stata molto chiara, ha detto che tu hai scelto i più forti, l'hai fatto per strategia. Come replichi a Fariba? Secondo Fariba, tutto questo intero percorso, qualsiasi concorso... Facciamo parlare, non ci manca ha cominciato. Parla, parla, parla. Però ha ragione Fariba, facciamo parlare Awed. Secondo me Fariba, qualsiasi cosa, all'inizio di questo percorso mette alla base che chiunque qui sia uno stratega, perché fondamentalmente Fariba qui non si fida fondamentalmente di nessuno e questa sua sfiducia forse nel nostro comportamento semplicemente umano si riversa poi nell'ipotetico discorso di strategie. Io sono stato molto chiaro, Valentina settimana scorsa è svenuta, è una persona con la quale ho stretto tantissimo e le voglio un bene dell'anima e le auguro di arrivare in finale. Per me è una persona imprescindibile all'interno di questo percorso e quindi è stata la prima persona che ho voluto premiare. Con Andrea la mattina c'è stato un momento di sconforto, il quale si portava avanti da una settimana, momento di nostalgia, aveva tantissima fame e io personalmente volendo premiare un amico, un amico ho voluto tirare su di morale lui piuttosto che premiare qualcun altro. Fariba semplicemente non l'ho premiata perché settimana scorsa quando ho avuto la possibilità di tirar fuori qualcuno, la ricompensa che prevedeva comunque dei cannelloni, io sono stato l'unico che è stato tirato fuori. Le cose me le leggo al dito, quindi sei stata una persona che semplicemente ho escluso da quella scelta, tutto qui.